Allora nipotini facciamo un aggiornamento veloce di tutti i Ferragnez che mancano un po' dai social in questi giorni, poi vedremo Chiara e Fedez Allora oggi Ricchi e famiglia e anche Marina di Guardo con Valentina e Matteo sono al lago, giornata di sole splendido, questi sono Valentina e Matteo Invece adesso vediamo Fedez che si dà ai preziosi con un amico Allora siamo qui col Bernie e facciamo delle cose... è tipo il banco dei pegni Esatto Cioè questo era diventato quadrato, distrutto come nuovo Questa col paperino e la sua arte degenerata che io amo Chiara Ferragni invece, Chiara Ferragni l'abbiamo vista l'ultima volta, Last Scene in Wimbledon Allora ha fatto anche degli autografi su delle pale da tennis giganti perché viene riconosciuta anche all'estero, la cosa mi fa molto piacere Ecco qua la versione by night, invece recuperiamo altre fotografie che non abbiamo visto prima con Marina di Guardo, Ricky e Edo Vi aspetto al prossimo aggiornamento, speriamo di vedere Leone Vittoria prima o poi, un grande bacio, ciao!